Vediamo qua se stiamo facendo la diretta anche su Instagram. Allora, buongiorno, benvenuti a questa la seglia stappa di oggi, sabato 18 aprile. Continuiamo a stare agli arresti domiciliari, ma almeno si muove qualche cosa, cioè le prospettive sono che da qua al 4 maggio si possa aprire un po' di aziende, l'apertura delle aziende vuol dire anche tirar fuori degli arresti domiciliari qualcuno e quindi è una buona notizia per tutti quanti noi. Insomma, sabato e domenica te ne accorgi di meno, ma da lunedì al venerdì stare agli arresti domiciliari nella nostra città è evidentemente una di quelle cose che agli italiani forse più o meno può ora iniziare a pesare. Il giornale unico del virus che ci ha creato una nuova generazione di magistrati, i magistrati della salute sono i virologi, di cui dovremmo liberarci il prima possibile, ascoltate me, liberiamoci il prima possibile da queste figure che hanno questa, perché siccome pensano è come la corruzione, i magistrati siete corrotti e quindi possono arrestare tutti, i virologi la vostra salute e quindi confidiamo completamente nelle loro ricette, a parto che però riescano a curare le persone. Invece i virologi pontificano in televisione ma non hanno ancora trovato le cure. Io non ne faccio un'accusa di non aver trovato le cure ai Rezza, ai Ricciardi, ai Galli, a tutti questi grandissimi, ai Burioni, non hanno trovato le cure, non c'è il vaccino, non c'è la medicina, questi hanno trovato soltanto il modo per tenerci chiusi a casa, sono uniti su quello e divisi su tutto il resto, ma insomma lasciamo perdere perché ne parleremo dopo. Oggi i titoli dei giornali parlano della cosiddetta fase 2, lo fanno da almeno una settimana dopo che il giornale unico del virus ha capito che gli italiani in casa non ci restano ancora tanto e la cosa stupenda è il titolo del Corriere della Sera, fase 2, scontro Nord-Sud. Allora voi mi dovete spiegare, ci sono delle regioni del Nord che sono Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte dove sta ritornando qualche contagio in più rispetto alle settimane scorse che vorrebbero più o meno riaprire in sicurezza nelle prossime settimane e ce n'è una, una sola di De Luca al sud che dice chiudo i miei confini. Allora toc toc titolisti, pensate un po' voi, i 6.000 che mi stanno seguendo in questo momento, i 500.000, tutta questa gente che segue la zuppa di porro. Bene, questi amici che mi seguono, secondo voi, vi faccio questo schemino, regione Lombardia, regione Piemonte, regione Liguria che vogliono aprire e invece un governatore che vuole chiudere i confini. Secondo voi è uno scontro Nord-Sud questo? No, ditemelo. Oppure è il muro di Napoli, in maniera diciamo sintetica è il titolo del giornale. No, io non voglio difendere il mio giornale, sapete che ogni tanto lo attacco, ma vi sembra un titolo. Non è Nord-Sud, è Nord contro, come si chiama, De Luca. Soltanto per mettere un po' le cose a posto, vi consiglio di andare a vedere il Corriere del Mezzogiorno. Il Corriere del Mezzogiorno è il Corriere della Sera però basato a Napoli. Nel Corriere del Mezzogiorno c'è una foto in prima pagina, sotto le divisioni tra Nord e Sud, insomma, è una pagina di un bellissimo scorcio di mare campano e dice il Corriere del Mezzogiorno, toc toc! De Luca, dagli una letta al Corriere del Mezzogiorno. Negli ultimi due mesi nel Sud, cioè nella sua regione, sono arrivati 600.000 turisti in meno. 600.000 turisti in meno. Cosa facciamo? E riapriamo bagnoli? Le industrie? Pensiamo che la Campania, quando alza le barriere nei confronti delle altre regioni e degli altri paesi, campa, caro De Luca, con i soldi che hai sempre guadagnato grazie ai cittadini che ti pagano, posto che, come tutti i politici, i soldi non li stai creando, ma li stai utilizzando? Ma io dico, ma questi sono matti. De Luca, che a me sta molto simpatico, mi diverte pure, è un grandissimo cabarettista. Beh, ogni tanto bisognerebbe di dire, De Luca! Beh, insomma, rivediti, consigliati con qualcuno. C'è qualcuno che ti potrà consigliare sul fatto che fare il fenomeno in una regione che, peraltro, a differenza della Lombardia, non è stata così colpita dal virus. Probabilmente tenere e chiudere i tuoi confini, voglio dire, è un problema tuo e dei tuoi campani, non del resto dell'Italia, che può, purtroppo, io con grandissimo dolore, ma fare a meno per qualche mese della campagna. O no? Ma questo forse non lo capisce il governatore che fa queste sue battute che piaceranno, non so, ai suoi amici. Io la trovo una cosa allucinante, allucinante, allucinante. Però, insomma, siamo governati. Secondo me questo virus ha fatto perdere la brocca, anche i governatori diciamo che avevano qualche ragione in più. Sallusti poi fa un altro tema stupendo, che poi è legato un'inchiesta che vedrete sul Sole 24 Ore. Cioè, la totale assenza, in questo momento, di scelte precise, di direzione precisa, del governo e del Parlamento. Ragazzi, anche il Parlamento, poi mi hanno chiamato i parlamentari, hanno detto che sei esagerato, c'è un bellissimo, lo trovate su Instagram Remix, in cui io dico che i parlamentari non si riuniscono e utilizzo termini un po' forti, mi rendo perfettamente conto. Però, ragazzi, cos'è stato totalmente assente nelle ultime settimane? Il Parlamento. Sapete cosa mi manca? Pannella. Mi manca Pannella. Quando ci fu la questione dei magistrati, come oggi dei virologi, che stavano pretendendo potere in questo Paese e se lo sono tenuto per vent'anni e siamo ancora schiavi della giustizia, diciamo, dei magistrati, di alcuni magistrati, non di tutti, ovviamente, beh, insomma, Pannella convocava il Parlamento. Oggi avrebbe convocato il Parlamento contro il virus, avrebbe fatto vedere quelli che si cagano sotto nel non andare a Parlamento e soprattutto nel rinunciare a una possibilità di far vedere a questo Paese che il governo è inabile, ma c'è un Parlamento abile che ha qualche idea, discussioni. A cosa serve il Parlamento se non parlare oggi, se discutere oggi della questione della sanità, dell'economia, della ripresa, dei test, della privacy, di queste inutili applicazioni che andranno in onda? Invece in realtà il governo e il Parlamento sono totalmente assenti, dice oggi, sallusti e stanno riprendendo peso sindacati e i nuovi esperti del secolo. Liberiamoci dai burioni, liberiamoci, ritornassero nei loro ospedali dove immagino facciano bene il loro mestiere. Nel frattempo l'OMS tornerà un'ondata, la Lombardia è in cauta, cita il messaggero Ricciardi. Quello che peraltro l'altro giorno ha fatto un tweet contro Trump è un tweet imbarazzante perché dice populisti, hanno le epidemie perché sono populisti, cioè quindi hanno le epidemie perché sono populisti, mentre invece i cinesi che sono comunisti, secondo Ricciardi, toc toc! Ricciardi, hai capito che cosa vuol dire la differenza tra Trump e Xi? O non ti è chiara? Cioè te la prendi con Trump perché è populista, mentre invece il virus cinese che è fatto da Xi, zitto e muto. E sei qui che fai il pontificato sulla chiusura e non chiusura della Lombardia e sulla seconda ondata. Ti segnalo che c'è un grandissimo virologo, quello del Vibrione di Napoli, che ha 90 anni ed è più saggio di te e non si occupa probabilmente di apparire sui giornali come suo unico scopo, che ha spiegato che la seconda ondata non c'è. Ho sentito dei medici dello Spallanzani che dicono che la seconda ondata non c'è. Io non sono un virologo, dico soltanto che siete divisi. Ma una cosa dico, che un tweet di Ricciardi contro Trump, posto che i soldini tuoi nella tua vita te li ha pagati Trump, è forse questo che non ti gusta, perché Trump dà 400 milioni di euro come contribuenti americani all'OMS che si è preso come presidente e come direttore generale l'etiope amico dei cinesi e che hanno coperto, oltre a dire un sacco di minchiate su questa pandemia, i cinesi fino a mo'. Pezzo di Liguori oggi molto bello sul giornale. Insomma, io quando vedo che Ricciardi, Burioni, sono diventati i miti a cui noi ci affidiamo, allora dico vabbè ragazzi, bene così, i Davigo e i Savonarola ce l'hanno ogni stagione, c'è Davigo e Savonarola. Nel frattempo, voglio dire, le questioni si devono allargare, non si può mantenere visto che il governo e il Parlamento non funzionano, quindi che cosa si fa? Lo leggo oggi sul Sole 24 Ore, io la trovo stupenda, il Sole 24 Ore si è messo a fare i calcoli di quante sono le task force in Italia fatte per questa emergenza. 15, 15, toc toc, scusatemi oggi sto esagerando, 15 commissioni task force, cabine di regia, stati generali, porco due, quello che volete voi, ma è possibile decidere con 15 task force? E poi io mi chiedo, ma se tu c'è il Ministero dell'Innovazione, perché fai la task force sulla digitalizzazione? C'è il Ministero, se tu c'è il Ministero del Sviluppo Economico, perché fai la task force per... beh, io dico, ma ci sono i ministeri, ci sono centinaia di persone che ci lavorano, ci sono migliaia di dirigenti che sono pagati, prendetevi un consulente se proprio su quella roba lì non sapete nulla, se no non riesco a capire che cosa servono, ministeri, istituto superiore della sanità, consiglio superiore della sanità, uffici scientifici degli ospedali, c'è tutto, ma noi abbiamo 450 esperti in 15 commissioni e nel frattempo Arcuri, dicono oggi tutti quanti i giornali, si è affrettato a presentare l'applicazione fottendo l'innovazione e fottendo Colao, perché poi c'è tutta la no, chi è che conta di più? Arcuri, Colao o quelli dell'innovazione o la task force per le fake news? Nel frattempo, sempre sul solo 24 ore, mentre questi fanno le task force, litiga De Luca con la regione Lombardia, il governo non si capisce che cosa diavolo voglia fare, bene, sapete cosa succede? Ogni settimana di PIL in questo momento come siamo bloccati è lo 0,5% di PIL in meno, 0,5% di PIL in meno ogni settimana, la Spagna ha ripreso, la Germania non ha mai chiuso, ha già iniziato a chiudere in 15 giorni, ha chiuso e poi ha riaperto, Francia riapre, Inghilterra non ha mai chiuso, Svezia non ha mai chiuso, Belgio non ha mai chiuso, noi invece abbiamo chiuso tutto e continuiamo a essere incerti sulla ripresa, siamo morti che neanche camminano, siamo morti agli arresti domiciliari, questa è la situazione in cui ci troviamo, nel frattempo nessuno cita la tabella dell'Istat, lo fa oggi il messaggero a pagina 22 e fa vedere una cosa chiarissima e cioè qual è la cosa chiarissima? Che mentre ci sono alcune regioni, alcune città tipo Bergamo in cui i morti sono aumentati del 148% da gennaio al 4 aprile, 148%, quindi sono più che raddoppiati da gennaio ad aprile di quest'anno rispetto a gennaio ad aprile dell'anno scorso ed è indubitabile, la stessa cosa vale per Brescia, per Lodi e anche per Pesaro dove sono molto aumentati i morti, in realtà nelle altre città italiane i morti sono aumentati 6-7% e peraltro nei primi 4 mesi dell'anno bisogna vedere su base annua cosa succede, questo vuol dire diminuire l'importanza del virus? No, questo vuol dire fare i conti con i numeri e non con Borioni e con Ricciardi che tra un tito e l'altro si mettono a dire che Trump fa male e che l'altro fa bene. L'applicazione che si sono studiate in queste task force è stupenda, è un'applicazione sicuramente favolosa, sostanzialmente cosa succede però? Che questa applicazione funziona con questo criterio, cioè io me la scarico volontariamente, il mio vicino se la scarica volontariamente, quando il mio vicino è positivo, e com'è che è positivo? Perché c'è un tampone che lo rende positivo e che lo fa vedere positivo, beh insomma la mia applicazione sta vicino alla sua, il mio telefono sta vicino al suo, si vede che sono a contatto con un positivo e io, l'applicazione mi dice stai attento che sei stato vicino a un positivo, però ci sono due condizioni, che tutti devono fare i tamponi e che almeno il 60% degli italiani devono avere l'applicazione, voi ci credete? No, ditemi, voi ci credete? Quando fra 20 giorni ci sarà questa applicazione? Voi credete che ci saranno tutti i tamponi? Io mi sarei occupato un po' prima di fare quello che hanno fatto a me, cioè tamponi, sapere quando sei infetto e quando no, non inventarsi queste fantastiche applicazioni, stupende, per carità, ma se le avessimo fatte tre mesi fa forse aveva un senso, ma faremo fra due mesi, quando non ci sarà più il virus, faremo un'applicazione fichissima, l'unica cosa buona è che questa applicazione ha soltanto fatto perdere tempo e neanche una lira perché l'hanno data gratis. Nel frattempo è stupenda Repubblica. Italia, quanta fretta di riaprire, glielo vorrei dire rispetto a quello che dice la Banca d'Italia, 0,5% in meno, ma questi qua che fanno i giornalisti, fanno i politici, fanno i virologi, ma non si rendono conto che un bar chiuso, una tabaccheria, anzi non quella perla, un ristorante chiuso vuol dire decine di migliaia di persone che non lavorano e non compreranno il vostro cazzo di giornale perché non avranno un euro e mezzo da spendere in minchiate. Non ve ne rendete conto che il mio stipendio è pagato da gente che lavora, da ristoratori, da autisti, da operai. Non è che i soldi nascono dall'Europa, dai prestiti, nascono da gente che lavora, da artigiani, da commercianti. No, state chiusi, che noi giornalisti vi spieghiamo come funziona. No, state chiusi, perché noi virologi... Ma chi li paga i virologi? L'OMS, chi lo paga? Grandissimo Trump, grandissimo. Togliere 400 milioni di dollari, il più grande contributore dell'OMS è l'America, è il minimo che si potesse fare. Nel frattempo i politici non perdono il loro vizio, ma è anche giusto che sia così e cioè procedono le nomine delle grandi aziende italiane. Lì, abbiate pazienza. Io sono d'accordo in questo caso con il governo, perché non cambierà gli amministratori delegati. Il fatto si arrabbia perché verrà confermato descalzi a Leni, che è indagato, profumo, in Finmeccanica perché è indagato. A me interessa poco, non conosco Neleni e Finmeccanica per poter valutare il loro lavoro, anzi le conosco e non me ne fotte nulla ora di dirlo. Penso che Finmeccanica abbia perso da Guargaglini in poi, proprio perché è indagato, abbia perso tutta la sua forza di un tempo. L'hanno smontata a pezzo a pezzo la più grande industria meccanica italiana della difesa, distrutta dopo Guargaglini. Ma questo non è il punto, che poi assolto da tutto va a fanculo, così come Orsi, arrestato e assolto da tutti. Quindi il problema non è l'amministratore delegato attuale, che non è certo un uomo di Finmeccanica. Il punto è un altro, che in questo momento mettersi a cambiare altri sei mesi per capire, uno entra in Finmeccanica e fa l'amministratore delegato, uno entra a Leni e fa l'amministratore delegato, prima che capisca dove sta, ci mette sei mesi. Abbiamo questo tempo? No. Mantenere gli amministratori delegati, cosa che pare a Beghezzo e Mattarella, è cosa sacra e giusta. Poi non vi piacciono, anche a me alcuni di loro non mi piacciono, ma meglio questi, come dice, io ormai lo cito sempre Messina, l'ottimo e nemico del bene. Teniamoci questi, cambiamo i presidenti e fatevi sui presidenti la vostra lottizzazione, che non fate danni. Poi ieri è successa un'altra cosa in Europa, e cioè che hanno fatto un voto su una grande piana europea e il Parlamento europeo per il futuro, in cui ci sono i Corona Bond, in cui ci sono i Recovery Bond, in cui c'è il mess, è una cosa talmente complicata che oggi leggere in retroscena non riesce a capire questa risoluzione che cosa volesse evidentemente. In realtà poi la risoluzione non vale nulla, zero, non vale nulla, sono quelle robe per cui i parlamentari perdono il loro tempo per fare un atto di indirizzo. Ma la cosa fondamentale è che questa risoluzione, che è stata approvata con 395 sì dal Parlamento europeo, dicono le cronache oggi di tutti quanti giornali, vede il solito paradosso italiano, in cui il Movimento 5 Stelle non vota con il PD e stanno al governo insieme. Forza Italia vota con il PD e non vota con Lega e Fratelli d'Italia che è all'opposizione. Allora, lasciamo perdere il governo e le sue divisioni tra Movimento 5 Stelle e lasciamo anche perdere il contenuto. Guardate, posso dirvi una cosa? Questa roba qui non vale nulla, è soltanto, come possiamo dire, un segnale che vuole dare il Parlamento europeo alla Commissione europea, che può anche essere importante, ma la vera cosa che vi dico è che segnale dà l'opposizione? No, ma ve lo chiedo, io lo chiedo a Tagliani, lo chiedo a Meloni, lo chiedo a Salvini, porca puttana, se questo governo è un disastro, com'è un disastro, l'opposizione ne è il fedele specchio, abbiate pazienza, ne è il fedele specchio, perché a me non me ne fotte nulla del recovery bond, del corona bond, mi interessa moltissimo, del mess, ma il punto fondamentale è che se volete candidarvi a governare questo paese dovete avere una posizione comune o almeno apparentemente comune in Europa su una questione fondamentale come uscire dalla crisi, o no? Non me ne frega niente che certamente la risoluzione era scritta con i piedi e quello non voleva mettere dentro il mess e quello non voleva mettere gli euro bond, mi interessa che chi si candida a governare questo paese, cioè l'opposizione oggi, abbia una posizione chiara, identificabile, perché qualcuno lo possa votare, per qualcuno possa dire meglio loro che Conte con le sue 15 task force, Conte con il PD che non va d'accordo con il Movimento 5 Stelle, meglio loro di Conte appoggiato da Renzi che un giorno c'è e un giorno no, o no? O se anche l'opposizione che manco governa non si mette d'accordo su un voto parlamentare, ragazzi, ve lo dico, ma veramente seriamente, ma come fate a contrastare questo governo che per quanto mi riguarda sta facendo malissimo nell'emergenza economica, quasi quanto male ha fatto nell'emergenza sanitaria, anzi molto peggio, perché l'emergenza sanitaria era in attesa e quell'economica era straordinariamente attesa. Ecco, è imbarazzante, quindi non il voto in sé di ieri, per cui qualcuno poteva, non voglio neanche entrare nel medico di chi avesse ragione il centrodestra, ma per il segnale che il centrodestra ha dato, pessimo. Beh, ultimi due pezzi che vi segnalo, beh, quello stupendo, devo dire la verità, quello di Feltri Junior, di Mattia Feltri sulla stampa, perché vedete, Mattia Feltri sulla stampa sta facendo una battaglia su questa cosa delle RSA, per cui dice, ragazzi, ma è mai possibile che dobbiamo già mettere i magistrati su questa vicenda? Dice, non mi sembra che leggo su Le Monde che nonostante ci sia il 40% dei morti di coronavirus in Francia, venga dalle RSA, dalle case per anziani, ci siano già magistrati, non leggo sul Paese che nonostante ci siano 10.000 morti che arrivano dalle case di cura ci siano delle indagini, ci sarà modo e tempo di farlo, ma insomma non si può fare, come dice lui, non si può emettere sentenza in pagina nel tempo dell'istante e dice questo mi fa orrore e anche a me con Mattia Feltri questa cosa mi fa errore, orrore, e mi fa orrore quando la sinistra attacca la Lombardia, che è un attacco veramente del tutto chiaro nei confronti di Fontana e di Gallera, è evidente l'attacco che Conte e i suoi stanno facendo nei loro confronti, ma mi fa anche, diciamo, orrore quando abbiamo oggi purtroppo il mio amico del tempo Becchis, certo fa il suo mestiere, però ragazzi il problema nell'acquisto delle mascherine della regione Lazio, che è un altro grande scandalo, ovviamente non ha la forza mediatica delle RSA, perché quando ci metti giornali come Repubblica, Corriere e tutte le televisioni che seguono è evidente che lì c'è più immediato scandalo rispetto a quello che può fare, il solitario, l'unico giornale contro il positivismo del virus che è il tempo, però anche attaccare Zingaretti sulle mascherine, qua eravamo in un momento di emergenza per cui le mascherine, i dispositivi medici si sono comprati, un po' tutti quanti, almeno hanno provato a farlo, poi avrà sbagliato, lo faremo dopo, ma oggi il tema fondamentale è avere queste mascherine, oggi il tema fondamentale è affrontare l'emergenza sanitaria in Lombardia, non la magistratura che entra nella nostra camera da letto, penso e credo con molti di voi. Fantastica poi la questione del virus cinese, e cioè questo virus che nasce in Cina e che oggi sempre più persone pensano, sempre più persone autorevoli, oltre ai servizi segreti di mezzo mondo, ritengono che sia sfuggito a un laboratorio di Wuhan. Io non ne ho mai citata questa storia, ne parlerò lunedì lungamente durante Quarta Repubblica, perché adesso la cosa del virus cinese veramente ha moltissimi elementi di prova superiori alle settimane scorse. Beh, intanto è fantastica la cosa sui numeri cinesi, soltanto ieri sono comparsi 1200 morti in più, ma che affidabilità possiamo dare e che forza ha questo modello cinese che è il modello comunista, che è un modello che, voglio dire, semplicemente spero di aver dimenticato dalla storia. Direi che per oggi è tutto, la fase 2 della zuppa di porro è sul sito nicolaporro.it, come sempre, ciao!